e come dicevo per quanto riguarda un po di ripasso sul discorso delle collection di java lo facciamo attraverso un esercizio che ho chiamato libretto voti perché di fatto è un esercizietto in cui c'è da gestire i voti dei vostri esami vediamo di ingrandire un attimo il testo e quindi dentro il file libretto voti che avete scaricato c'è un testo di un esercizio di ginnastica nel senso di mettere insieme dovrebbe essere relativamente facile per voi che avete ancora fresca in mente il corso di programmazione oggetti ma ci serve un pochino per fissare i punti sul metodo di lavoro e ricordarci alcune trappole che ci possono essere nella gestione delle strutture dati in questo esercizio qua non richiede per il momento di fare nessuna interfaccia grafica quindi se lo volete la potete aggiungere noi abbiamo aperto un progetto che aveva tutta la parte fxml ma per il momento non la stiamo usando in questo non viene richiesta ma potremmo aggiungerla in un secondo momento allora per un motivo che vedremo mercoledì nella lezione il codice che ha a che fare con gli algoritmi lo mettiamo in un package che si chiama model quello che ho creato prima perché poi da mercoledì capiremo meglio che ci conviene separare quello che è il controller da quella che è la cosiddetta vista, la visualizzazione che sarà la fxml da quello che è una o più classi che gestiscono il modello dati su cui l'algoritmo lavora e il modello dati lavora indipendentemente dal fatto che ci sia davanti un'interfaccia grafica gialla, verde, blu oppure che non ci sia assolutamente sono elementi separati che vogliamo mantenere separati ma di questo ne parliamo mercoledì semplicemente per giustificare il motivo per cui creiamo questo esercizio all'interno di questo package model e per il momento ignoriamo il package principale cosa ci chiede di fare? realizzare un programma per gestione semplificata dei voti della carriera universitaria il programma si basa su una classe voto e una classe libretto che gestisce un elenco di voto la classe libretto deve avere un metodo ADD per il caricamento degli esami ok implementare le seguenti funzionalità e sviluppare una classe di test test libretto metodo main che attivi queste varie funzionalità di test quindi ciò che ci dice guarda che tu devi avere una classe che si chiama libretto che è il tuo programma principale o meglio contiene gli algoritmi principali questa classe espone dei metodi esporrà dei metodi che corrispondono alle varie funzionalità che può fare ma lei stessa non è un main lei non è il programma è semplicemente una classe che gestisce il libretto dei voti li gestisce memorizzando e gestendo degli oggetti voto che contengono le informazioni sul singolo voto e per poter testare questa classe ci facciamo un'altra classe che si chiama test libretto quindi sarà abbastanza comune voi magari siete abituati a metodi più formali come l'unit testing in cui c'è un metodo ben definito per creare dei test qui purtroppo lavorando in JavaFX non si possono applicare questi metodi perché con l'interfaccia grafica non si riesce e useremo metodi più artigianali e creeremo delle classi di test quindi in pratica che cosa facciamo? noi creiamo questa nuova classe libretto che sarà il nostro la nostra classe principale dentro il modello e poi possiamo creare una classe voto che dice il testo e infine una classe test libretto qui siamo e quindi questa classe esercizio che avevamo fatto prima la possiamo tranquillamente cancellare tanto non ci serviva elimina ok questo è un in questo esercizio è già il testo che ci dice esattamente quali classi fare ok però da adesso in avanti negli esercizi non ci diranno tenderanno a dirci sempre di meno quali classi fare perché ce lo dobbiamo capire da solito lo dobbiamo inventare da soli e che fa parte della progettazione della nostra soluzione in certo senso ok ok cosa devo fare vediamo la prima la prima funzionalità inserire nel libretto un elenco di 10 oggetti voto a piacere quindi questo è facile vuol dire che abbiamo un oggetto voto che conterrà il nome del corso il voto ottenuto e la data dell'esame sono tre campi all'interno di questo oggetto quindi partiamo da qua partiamo da creare la classe voto che conterrà questi tre campi abbiamo detto che è il nome del corso che è un di tipo stringa nome o nome corso se volete ma può anche bastare chiamarlo nome poi il voto ottenuto quindi private supponiamo che sia un numero intero il voto e quindi attenzione che 30 lode come lo rappresento e poi avrò la data dell'esame private la data voi potrete forse in passato avete visto una classe che si chiamava date che faceva parte del pacchetto java.util noi tenderemo a non usare questa classe data vi farò poi una lezione apposita sulla gestione delle date dell'ora che sono sempre molto complicate ma usiamo una classe che si chiama local date che fa parte di un package java.time detto in 10 secondi java.util.date fa schifo e era diciamo così stata inserita nella primissima versione di java java 1 e già allora dava dei problemi è stata da java 8 in avanti è stato ripensato completamente il sistema di gestione delle date all'interno di questo package java.time quindi noi impareremo poi nelle prossime volte a usare queste classi per ora non dobbiamo preoccuparci più di tanto semplicemente uso questa già per portarci avanti poi tanto in questo esercizio qua non ci sono grosse operazioni da fare con le date quindi non dobbiamo ancora approfondirlo e mettiamo la data in cui l'esame è stato superato superamento esame tutti questi campi li ho dichiarati come campi privati ovviamente la solita pattern di programmazione delle classi java è che i campi devono essere privati devono avere ogni classe deve avere un costruttore dei metodi setter e getter che danno accesso a questi campi ok e quindi io posso crearmi il costruttore e crearmi i vari metodi get e setter attraverso il menu source di eclipse genera il costruttore partendo dal campi immagino che queste cose le sappiate già fare bene scelgo quali campi usare e mi genera automaticamente il metodo costruttore che riceve i tre parametri uguali una stringa un intero e una data e me li salva nei valori delle 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 proprietà private corrispondenti quindi posso creare un nuovo voto passando di questi tre parametri per rispondere a Marco il package model l'ho creato prima della parola l'ho creato io e poi ho bisogno di setter e getter di tutti gli elementi quindi in questo caso devono essere tutti in lettura e in scrittura e quindi aggiungo getter e setter di tutti e tre gli elementi quindi il menu source e questo mi crea i tre metodi mi chiede ingrandisco un attimo il testo eccolo qua ok quindi noi abbiamo questa classe vuoto creata come a volte si chiama pojo non so se avete già sentito questa nomenclatura staffplanned old java object un semplice oggetto java poi vedremo ci sono gli oggetti che assumono dei ruoli diversi quando faremo qualche pattern di programmazione oppure a volte lo chiamiamo bin java bin ossia una classe che al suo interno abbia le proprietà definite in questo modo il costruttore e tutti i metodi get set corrispondenti ai vari elementi ok questa è una classe stupida questa è una classe che è un semplice contenitore di dati non ha logica non fa cose ok noi avremo diverse classi di questo genere cioè semplicemente classi che contengono dei dati e poi ci sarà un'altra classe sopra che invece le gestisce è in grado di fare le operazioni non sa che cosa farsi in queste operazioni qua un'altra cosa di cui ci abitueremo a fare è di aggiungere dei commenti alla modalità di javadoc se voi andate davanti a una classe o davanti a un metodo inserite questo barra asterisco asterisco fate invio lui vi prepara un blocco di commento e quindi io posso scrivere memorizza risultato un esame singolo questo fa sì inserire un commento di questo tipo quindi slash asterisco asterisco invio vi crea questo blocco fa sì che quando voi andate sul nome della classe vi fa vedere la documentazione che avete appena scritto quindi quando cominciate ad avere un pochino di classi ricordarsi che cosa fa ciascuna senza dover andare a vedere il sorgente semplicemente in automatico vi viene mostrata e poi vabbè volendo si può anche fare sui singoli metodi che è inutile fare sul costruttore però davanti a un metodo questo caso è il costruttore quindi non serve perché è già chiaro che cosa fa però posso scrivere anche qua costruttore nella classe voto dove posso anche specificare meglio cos'è il nome del parametro quindi il nome del corso superato voto ottenuto e data di superamento ok e quindi questa cosa viene mostrata come documentazione tutte le volte che vado su questa funzione quindi prendiamoci l'abitudine costa poco quando creiamo un nuovo metodo o una nuova classe scrive due righe che ci ricordi che cosa fa come buona abitudine ok a questo punto abbiamo un oggetto che contiene i dati che ci servono il terzo esercizio ci dice ci chiede inserisci in un libretto un elenco di dieci oggetti voto a piacere quindi vuol dire che questo libretto conterrà al suo interno degli oggetti di tipo voto quindi questa classe libretto conterrà al suo interno tanti voti e li possiamo memorizzare ad esempio in una private in una lista di voti e la posso chiamare voti questa lista di voti quindi poiché devo memorizzare più voti li posso decidere di salvare in una lista questa lista sarà un dato privato dato privato che però non avrà un getter e un setter perché io non voglio che dall'esterno possano venire a manipolare questa mia lista avrò solamente dei metodi in cui possono manipolare questa lista in un modo solo controllato cioè che decido io quali metodi dare voi avete conosciuto che ci esistono diversi tipi di liste in java no? in particolare questa potrebbe essere un array list oppure potrebbe essere una linked list parleremo poi un attimo della differenza dei due dal punto di vista delle prestazioni però per come sono realizzate le collection in java entrambi queste classi classe array list e classe linked list implementano entrambe l'interfaccia list interfaccia list che sotto java.util definisce quelle che sono le operazioni e qui vediamo la documentazione bla 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 le operazioni permesse da tutte le liste che siano array list che siano linked list noi possiamo sempre sviluppare lo stesso tipo di operazioni perché l'interfaccia comune è l'interfaccia list allora noi useremo molto questo metodo quando definiamo una variabile cerchiamo il più possibile di definirla con il tipo derivato da un'interfaccia vedete che la i significa interfaccia perché ci pensiamo poi dopo a decidere qual è la classe specifica che useremo all'interno del codice ci interessa solamente che questa variabile voti sia una lista se poi è implementata come array list o implementata come linked list lo deciderò sulla base di ragionamenti più legati all'efficienza del codice che non alla funzionalità tanto funzionano tutte e due nello stesso modo i due tipi di liste hanno dei meccanismi interni diversi per cui uno è un pochino più efficace se dovete aggiungere togliere modificare frequentemente gli elementi l'altro invece è più efficace quando devo solamente aggiungere in fondo e analizzarli in ordine questi elementi ma su questo ci arriveremo quando parleremo un pochino di complessità e delle collection nel merito quello che voglio ricordarvi è appunto evitiamo di fare nel codice delle scelte premature o che siano complesse da modificare se poi dovessimo cambiare idea vedete poi nei laboratori vi diamo proprio da fare questo tipo di esercizi di confronto e quindi avrò poi un costruttore public libretto è un costruttore che costruisce un libretto vuoto quindi il libretto contiene dei voti ok quando il libretto viene creato per la prima volta non contiene nessun voto quindi questa lista dovrò crearla nel momento in cui creo la classe libretto e quindi dovrò creare finalmente devo creare una classe un oggetto di una certa classe specifica ad esempio potrebbe essere un array list allora ripassiamo la differenza tra definire una variabile che per ora è una variabile di tipo lista che non punta a nulla questa variabile è null per il momento quando l'ho dichiarata qua alla riga 8 rispetto a inizializzare questa variabile con un nuovo oggetto quindi fino a quando non faccio new non c'è nessun oggetto collegato a questa variabile questa variabile vale null e non contiene nulla poi la posso posso creare una nuova lista e assegnare a questa variabile il riferimento a quella lista con l'operatore con l'operazione di new alcuni hanno l'abitudine di mettere new direttamente da sopra è indifferente oppure metterlo nel costruttore tanto entrambe le operazioni vengono fatte nel momento in cui viene creata la classe per la prima volta ok se ci dimentichiamo di fare questa operazione la variabile locale il voti esiste e vale null e quindi ogni volta che faremo un'operazione otterremo una bella null pointer exception ok io ricordo io metto sempre davanti quando mi ricordo this punto per ricordarmi che questo voti è una variabile che è dichiarata a livello di istanza e non è una variabile locale di questo metodo ok l'altra cosa sempre a modo di ripasso è che cosa sono che cosa sono questi simboli questi simboli sono i generics cioè nel senso che la lista è un'interfaccia generica e può contenere oggetti di vario tipo può avere la lista di numeri la lista di voti la lista di 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 case la lista di di persone lista di oggetti diversi ogni lista contiene una certa tipologia di oggetti e quando io creo la lista dichiaro qual è il tipo di oggetti che questa lista dovrà contenere quindi in questo caso sto dicendo che questa lista conterrà solamente oggetti che sono o di tipo voto di classe voto oppure di una delle sottoclassi di voto stesso chiaramente se faccio le sottoclassi vanno bene lo stesso e questo meccanismo generis viene usato in tutte le collection e come vedremo anche in java effects quando faremo del menu tendina dei bottoni eccetera potremmo specificare qual è il tipo di dato che viene gestito da quell'elemento quindi si usarà molto la new quando ho fatto la new ho creato l'oggetto e qui sono stato obbligato a scegliere tra array list o linked list o eventuali altre ipotetiche implementazioni di lista perché? perché quando creo un oggetto vero e proprio e devo dire esattamente di quale classe sarà finora ho detto guarda io avrò una variabile che è di tipo lista di uno dei tipi delle classi che implementano lista ma quando qua creo l'oggetto devo scegliere il tipo di lista da usare in questo caso ho usato un array list potevo usare una linked list non sarebbe cambiato molto questo sarà l'unico punto del programma questa linea in cui so se questa variabile voti contiene è di tipo array list o di tipo linked list e in un punto solo perché in un punto solo? perché a questo punto se io volsi cambiare cambiare solamente qua e tutto il resto del programma non ha bisogno di sapere nulla di questa modifica perché tanto il resto del programma si fida del fatto che voti implementi l'interfaccia lista faremo molte volte questo ragionamento se devo modificare qualche cosa nel mio programma devo toccare in 100 punti diversi o basta toccare in un punto solo strategicamente scelto ovviamente la seconda è molto migliore della prima quindi cercheremo sempre di fare delle scelte in cui le scelte vengono concentrate in alcuni punti del codice e il resto del codice si adatta in modo più o meno intelligente qui non abbiamo dovuto ripetere voto tra parentesi come generics perché lui l'ha capito lo può capire dal valore cui viene segnato ma se no lo potremmo ripetere tranquillamente ok quindi qua abbiamo creato un libretto vuoto con zero voti dentro cosa ci chiede il testo ci chiede di metterci dentro dieci oggetti a piacere ma chi è che ce li mette dentro beh il programma di test quindi ci sarà un programma test libretto che crea dieci voti e li aggiunge ok quindi ci sarà un programma di test che creerà una libretto e poi dirà a questo libretto di aggiungere dei voti quindi sarà un voto voto 1 un nuovo voto di analisi 1 in cui uno ha preso 30 e la data era local date anche qua fidatevi di quello che scrivo per il momento of anno mese giorno quindi 2000 che non so due anni fa 2019 febbraio 15 e poi quindi questa è una classe di test innanzitutto crea un nuovo libretto all'interno del quale mettere i voti poi crea un voto e poi dovrò aggiungere qualcosa del tipo libretto punto add del voto dovrò fornire la classe di libretto di un metodo che permette di aggiungere dei voti questo ovviamente si arrabbia un pochino perché dice che questo metodo add non esiste cosa ho sbagliato qua scusate c'è giusto ok il libretto è la variabile sì 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 è la classe è chiaro no ma il messaggio di errore che non capisco vabbè sistemiamo l'altro vuol dire che libretto è la classe che abbiamo creato e dovremo dare un metodo add nella classe libretto questo mi era chiaro è il messaggio di errore che si scriveva qua che non capivo che sembra quasi più un errore sintassi che non di comunque lo correggiamo qui dobbiamo aggiungere un metodo add pubblico questa classe questo metodo riceverà un voto come parametro e che cosa ritorna beh non ha bisogno di ritornare nulla perché semplicemente aggiunge e basta e quindi cosa fa questo metodo adesso qua dovrebbe non dovrebbe più arrabbiarsi tanto quindi il libretto ce l'ho messo il metodo add scusate non riesco a capire perché le parentesi sono giuste qua scusate sono idiota io devo fare il metodo main scrivendo cose direttamente dentro la classe e non dentro il metodo main della funzione quindi ovvio che certe cose non funzionano che si fa qua a formattare il codice non mi ricordo mai ctrl shift f ok scusate mi avevo perso il main e quindi non capivo più cosa stavo facendo ok allora abbiamo creato una classe voto e abbiamo chiamato il metodo add di libretto in voto 1 angelo mi chiede di fare una lista di libretto in testi libretto no io nella classe test libretto voglio testare i metodi della classe libretto quindi il mio metodo di test non deve sapere né vedere come la classe libretto gestisce i voti voglio nascondere la classe libretto dietro alcuni metodi che hanno senso per una classe che deve gestire il libretto poi internamente la classe libretto come gestisce le cose se ne occupa lei ma la classe di test non lo deve vedere il più possibile ok ok questo metodo l'abbiamo scritto dobbiamo implementarlo quindi torno nella classe libretto e come lo implemento questo metodo beh ho un oggetto di tipo voto ho già un insieme di voti quindi potrò semplicemente aggiungere all'elenco di voti che ho già questo è un nuovo che ho appena ricevuto quindi this.voti.addv chiedono al libretto aggiungi un voto il libretto prende questo voto e chiede alla lista aggiungi questo oggetto volendo qua davanti potremmo metterci dei controlli che la data sia valida che non sia null possiamo benissimo poi aggiungere questi controlli ma il cuore di questa operazione è che una classe di più alto livello che è un metodo add per implementare questo metodo questa classe delega una classe interna a fare il lavoro quindi questo è un meccanismo di delega io offro un metodo che di fatto altro non è che un nuovo vestito qualcosa che inviluppa un metodo esistente ma lo offro a modo mio posso aggiungersi dei controlli posso scegliere quando aggiungere o quando non aggiungere ad esempio più avanti mi verrà richiesto di fare attenzione che non vengano inseriti degli esami duplicati allora questo metodo add del libretto farà poi il controllo attenzione questo esame esiste già oppure no mentre invece il metodo add della lista lui beceramente esegue perché è un metodo di basso livello quindi noi cercheremo sempre di non reimplementare le cose ma di delegare alle funzionalità che già ci sono per quanto possibile abbiamo finito quasi nel senso che dobbiamo aggiungere dieci oggetti voto a piacere non ne abbiamo aggiunto uno vabbè ne aggiungeremo altri e poi magari dobbiamo avere un metodo per verificare che ciò che è stato fatto sia corretto e quindi andiamo avanti aggiungere un altro voto libretto appunto add un altro voto new voto lo scrivo in line direttamente fisica 1 questa volta abbiamo preso 28 certo giorno sempre 2019 però questo qua l'abbiamo dato luglio 7 in giuglio poi magari il primo anno abbiamo anche passato informatica con 24 questa l'abbiamo data a settembre e così via quindi non ne aggiungo dieci ne ho aggiungi solamente tre proviamo a far run di questo e lui parte facendo run di questa classe non mi dice nulla perché in realtà questa classe non sta stampando nulla quindi non vedo nulla dovrei vedere allora magari per essere sicuro che succeda qualcosa test il movimento di diretto il verso di diretto tutte virgola adesso faccio run ecco come lo fa vedere adesso magari questa console spostiamo la sotto che è più comoda e adesso ho quindi sono passato da qua il man è stato chiamato prima non stampava nulla perché non avevo nessuna print adesso mi piacerebbe vedere i vari voti del libretto stesso quindi mi servirebbe un metodo per stampare io potrei fare system punto out punto print line diretto e quindi mi faccio stampare il contenuto del libretto dopo aver aggiunto questi tre voti se faccio run lo stampa ma mi stampa il riferimento all'oggetto libretto io ho fatto il print di un oggetto e lui mi stampa essenzialmente l'indirizzo di memoria in cui quell'oggetto vive e il nome della classe che corrisponde a quell'oggetto lì mi dice guarda c'è un oggetto di questa classe che sta qua però io non so come stamparlo non so come devo visualizzarlo come devo visualizzarlo ma giustamente non è test libretto che deve sapere come stamparlo sarà il libretto stesso che sa come stamparsi ogni oggetto ha la responsabilità di mostrarsi di farsi vedere come beh aggiungendo un metodo to string all'oggetto stesso quindi abbiamo un metodo public string to string che viene string non string che viene chiamato ogni volta che java deve convertire un oggetto in una stringa per visualizzarla ad esempio oppure posso chiamare anche esplicitamente to string quando voglio allora come come posso ottenere velocemente la rappresentazione sotto forma di stringa di un libretto potrei essere tentato di chiedere alla lista di convertirsi alla fine il libretto contiene una lista di voti quindi io potrei semplicemente rispondere return dis.voti .to string allora se facessi così quando la classe di test chiede alla classe libretto stampati cioè convertiti in stringa la classe di libretto dice ok va bene io chiedo la mia lista convertiti in stringa e faccio finta di essere io e questo lo fa nel senso che a questo punto lo sto stampando aperta quadra virgola 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 eccetera e chiusa quadra e la rappresentazione di una lista quindi la lista quando deve stampare se stessa si stampa con elementi separati da virgola tra parentesi quadra poi la lista stessa anche lei usa lo stesso trucco come fa la lista a stampare il singolo voto chiede alla classe voto stampati la classe voto però non ha una classe non è un metodo to string non le abbiamo dato il metodo to string e quindi anziché stampare il contenuto del voto stampa il riferimento all'oggetto stesso e quindi per vedere qualcosa di decente dobbiamo creare anche qua un metodo to string ad esempio lo facciamo generare automaticamente da Eclipse attraverso il preziosissimo metodo il menu source e gli chiediamo e lui ci dice che cosa vogliamo che venga visualizzato nel to string per va bene nome, voto, data vanno bene tutti genera e lui mi genera una stringa che è fatta così voto, nome voto uguale data uguale vediamo un attimo cosa viene questa è la rappresentazione che Eclipse mi genera per metodo to string poi ovviamente ce la possiamo personalizzare quindi se facessi un run di questo mi dice voto nome, voto, data virgola voto nome, voto, data eccetera adesso questo magari non ci piace la vogliamo personalizzare un pochino però abbiamo già una prima versione funzionante poi l'estetica la possiamo sistemare ad esempio a noi non piace che venga fuori così allora potremmo dire che il nome quindi esame e poi mettiamo il nome dell'esame superato con il voto il e poi mettiamo la data e senza 50 parenti di quadra quindi se io modifico il to string di voto e rieseggo il programma mi farà vedere esami minus 1 superato con 30 quella data esami un superato eccetera eccetera però sono sempre messi insieme come come lista perché il metodo il to string della lista che li formata in questo modo io magari lo voglio vedere uno sotto l'altro anziché uno a fianco dell'altro con queste parentesi virgole che non hanno molto significato ma allora dovrò andare a modificare il to string del libretto che non deleghi brutalmente al to string della lista ma la costruisca lui prima di far questo rispondo a Delisa che mi chiede come ho fatto a ottenere questo metodo to string automaticamente prima di modificarlo dal menu tasto destro source generate to string qui ci sono questi vari metodi qua nel menu source che mi generano il costruttore mi generano get resetter mi generano to string già con delle impostazioni di default e poi vedremo mi generano anche esco the equals che saranno altrettanto importanti poi se voglio lo posso scrivere a mano ma per pigrizia dicevamo voglio stampare questi voti uno sotto l'altro anziché separati da queste virgole e queste parentesi allora vorrà dire che non costruisco così ma me la costruisco a mano quindi avrò una stringa risultante cui voglio aggiungere uno per uno i nomi degli esami e quindi farò for voto di due punti dis.voti e questo vuoti è una lista questa sintassi qua è la sintassi che usiamo sempre per iterare sulle liste o sulle collection ok non usiamo mai for i uguale 0 i minore voti punto length eccetera ma usiamo la versione semplificata del ciclo for per iterare su una collection e quindi ogni iterazione vi sarà il singolo voto e quindi aggiungerò alla stringa la rappresentazione del singolo voto più a capo rappresentazione del singolo voto che posso chiedere ovviamente a v stesso più n noi faremo molta attenzione sempre nel cercare di pensare in quale in quale oggetto ha più senso fare una certa operazione qui uno avrebbe potuto mettere ma sì ma qui in realtà il voto ce l'ho già quindi posso prendere il nome posso prendere la data e concatenare direttamente qua però non è responsabilità di libretto quella di formattare le voti di un singolo esame è responsabilità di voto formattare se stesso quindi cerchiamo un po' come dicevo questo è un esercizio molto semplice ma mi dà pretesto di lo uso come pretesto per fissare un pochino di metodi di lavoro che cercheremo di adottare e quindi qua abbiamo return s e vediamo se funziona ok chiaramente la data viene stampata in formato ISO come anno mese giorno poi quando vedremo le date impareremo come formattarla in italiano come piace a noi ma per il momento ci fidiamo dell'oggetto local date che sa come formattarsi allora abbiamo fatto tutto questo giro per fare un ad dentro una lista ovviamente però abbiamo un framework in cui poter facilmente aggiungere altre funzionalità però visto che abbiamo qualcosa che funziona attenzione prima cosa facciamo commit ricordiamoci di fare commit del lavoro che abbiamo fatto finora quindi in particolare no perché fai così qua cosa fai team commit ok abbiamo modificato quattro file esercizio da quello che ho creato nell'ora prima ma non ci serviva niente poi libretto test libretto voto li aggiungiamo tutti e scriviamo soluzione soluzione punto uno e faccio commit push di questa soluzione dove è finito questo visto che questo progetto vi ricordate che l'avevo salvato su github nella mia area personale che era da qualche parte qua sotto libretto voti va bene aggiungiamo qua libretto voti uno adesso lo potete vedere avendo io fatto push potete vedere qui anche Damiano che mi dice guarda non ho capito bene cosa è scritto nella classe possiamo andare a vedere direttamente voi stessi se andate su questo indirizzo qua liberto voti uno adesso ve lo scrivo anche nella chat così vi è più comodo cliccarci sopra potete vedere non dico in tempo reale ma quasi il codice che è stato risolto che ho fatto io in questo momento quindi è questo codice qua quindi piuttosto che non andare a cercare di leggere potete volendo anche copiarvelo incollarvelo ma magari è meglio rifarlo ovviamente adesso adesso sto lavorando perché abbiamo appena insegnato abbiamo appena discusso git sto lavorando sulla mia area personale ma poi in generale lo trovereste dopo la fine della lezione lo metto lo copio dentro il progetto che vi siete forcati all'inizio sotto un branch soluzione in cui via via vengono poi salvate le soluzioni quindi git ci serve anche lavorando anche per lavorare in tempo reale per vedere le varie passi delle soluzioni quindi ogni volta in cui arrivo a un punto fermo faccio commit per me stesso perché così ce l'ho lì se faccio casino dopo posso tornarci indietro e anche per diciamo così collaborare come vuoi sul codice ok fin qua come dicevo l'esercizio era molto semplice ma stampare tutti aggiungiamo gli altri punti quindi proviamo a implementare i punti rimanenti secondo punto è stampare tutti i corsi in cui voto è pari a 25 allora in questo caso capire quali corsi hanno un voto pari a 25 è facile basterà iterare su tutti i voti del libretto se il voto è 25 lo stampo altrimenti no stampare è un pochino più ambiguo nel senso che chi è che stampa chi è che stampa stampa la classe libretto o stampa la classe test cioè il mio metodo che seleziona i nomi dei corsi inferiore a 25 cosa deve essere deve essere un metodo come questo del tipo public stampa voti uguali e mi dà come risultato in cui passo un teggio e questo sarebbe un metodo void che non stampa nulla che semplicemente stampa lui questa è una possibilità io ho un metodo in libretto in cui gli passo un punteggio 25 e lui mi stampa a video quei voti lì questo è un modo ok quindi il libretto stampa da solo i voti oppure oppure potrò avere un metodo che costruisce una stringa quindi string vuoti uguali dato un certo punteggio quindi questo qua calcola una stringa che contiene i voti sarà poi il chiamante stamparli qual è meglio secondo voi il primo o il secondo il primo è più da pigri mi serve stampare faccio un metodo che stampa il secondo guarda un pochino più avanti no nel senso che è un metodo più generale che mi permette allora a parte il 25 che chiaramente questo metodo lo posso chiamare col 25 potrò chiamarlo col 27 col 24 tante volte però la differenza tra il primo è che lui sarà cablato a fare system punto out punto print line e basta l'unica cosa che sa fare è stampare a video quei voti se mi servissero i voti per metterli che ne so nell'interfaccia grafica di java fx in una finestra di testo questo metodo qua non mi serve a niente se me la stampo sulla console mi serve un metodo che mi distribuisce una stringa poi sono io che decido dove metterla quella stringa se stamparla sulla console se metterla dentro la finestra di testo eccetera eccetera ok quindi il secondo batte il primo perché in realtà una volta che la stringa la posso stampare ma posso anche farci altre cose quindi questo secondo è più generale del primo poi ho Cristiano che mi dice ma passiamo ancora già che ci siamo facciamo un passo avanti restituiamo non una stringa ma una lista di voto teniamo una volta uguale a 2 altrimenti si arrabbia una lista di voti quindi restituisce solo i voti uguale al criterio questo mi piace mi piace perché risolve anche un altro problema un altro problema è in cui io in questa stringa devo stampare solo il nome oppure tutto l'esame tutto il voto appunto tu stringa perché il testo era un po' ambiguo ovviamente no? perché mi diceva stampare tutti i corsi ai corsi cosa? solo il nome del corso? perché è inutile perché io stampi il voto perché so già che è 25 quindi mi dovrei porre il problema quando costruisco questa stringa se devo metterci il nome del corso sicuramente ma anche il voto che sono sicuro che è 25 ma anche la data lui mi chiede stampare solamente i corsi stampa i corsi non mi dice stampa gli esami o il date quindi non ho dovrei chiaramente spiegare meglio il testo ma al momento non ho informazioni per poter decidere come comporre questa stringa ma tutto sommato non è un problema mio sarà un problema di chi usa questo risultato quindi è molto più pulito dire senti tu volevi i voti uguali a 25 io ti do i voti uguali a 25 poi stampateli come vuoi quindi questa mi sembra ancora un passo avanti anche se ha un difetto il difetto di questa poi proviamo a implementarla ma il difetto di questo metodo è che espone all'esterno il tipo di struttura dati interna che ho usato cioè io qua mi viene naturale restituire una lista di voto perché internamente ho usato una lista di voto ma se internamente usassi qualche cosa di diverso in questo modo sto facendo vedere a chi usa questa classe come sono organizzati i dati non c'è nulla di segreto ma semplicemente se io poi decidessi di organizzare i dati in modo diverso devo modificare poi tutte le funzioni che restituiscono questi dati perché li ho organizzati in modo diverso forse forse no no può andar bene o può non andar bene ma l'alternativa potrebbe essere io provo a scriverla ditemi se non mi scandalizzate restituire un oggetto di tipo libretto cioè io sono un libretto tu mi chiedi quali sono i voti uguali a 25 e io ti do un altro libretto in cui ci ho messo solo quei voti lì quell'altro libretto se vuoi te lo stampi con two string tra l'altro two string ti fa già l'iterazione lo compone eccetera eccetera se io avessi la lista di voto dovrei io andarmi a iterare gli elementi della lista se ti ritorisco un libretto che ha solamente i voti che ho deciso io in quel libretto avrai tutte le operazioni che potrei fare sul libretto di partenza compresi magari gli eventuali controlli il calco della media tutto quello che volete l'ordinamento per data le cose che aggiungeremo non ho semplicemente una lista di voto quella lista diciamo un oggetto più stupido che poi dovrò io chiamante capire che cosa farcene farmene quindi alla fine un libretto che contiene solo i 25 è stesso un libretto in cui ho filtrato certi dati rispetto ad altri ok questo sarebbe se lo vediamo il passo avanti logico finale che no da questo ragionamento qual è il metodo migliore di implementare questo metodo scusate il gioco di parole di implementare questa richiesta è restituire un altro libretto in cui abbia copiato solamente i voti uguali al punteggio specificato dall'esterno ottengo un oggetto libretto che già conoscono possono chiamare i metodi sul libretto comprendo tool string ad esempio per stampare finisce lì oppure altri metodi che via via aggiungeremo possono anche aggiungere a questo punto hanno un libretto separato su cui lavorare che è stato estratto da quello precedente ma è intelligente come quello precedente allora proviamo io lascerei perdere le prime due perché non voglio prendere buone abitudini scusate brutte abitudini quindi questo lo commentiamo dicendo che ci fa schifo ci abituiamo a farci fare schifo queste cose e proviamo magari a implementare questi due ok quindi per ora questo lo commento so che lo faremo ok scrivo to do perché mi ricordo di farlo e cominciamo a implementare questo quindi chiamiamolo magari lista voti uguali allora come si fa come faccio restituire una lista di voti uguali a quelli precedenti allora io dovrò creare una nuova lista e a questa aggiungere i voti che sono uguali oppure creare una lista che sia una copia di quella di partenza e da questa cancellare quelli che sono uguali quelli che sono diversi il modo più semplice è quello chiaramente di creare una lista nuova e aggiungere solamente i voti che rispettano un certo criterio quindi in questo caso farò una nuova lista quindi lista di voto risultato uguale new array list di voto e già qua un pochino mi sto sbugiardando perché ho detto array list comparirà solamente in questa linea qui compare anche un'altra volta mi piace un pochino meno ma va bene lo accetto e poi in questa lista nuova di voto che nasce come lista vuota ok vado a copiarci i voti che sono uguali al 25 e quindi avrò itero su tutti i voti di dis.vuoti se v.get vuoto è uguale a punteggio allora aggiungo al risultato di v e alla fine di tutto ritornerò risultato facile facile ricordiamoci di questo add v per il futuro perché poi tra un po' ci dovremo tornare su abbiamo aggiunto a una lista diversa un voto che c'era già in termini di oggetti sappiamo che a questo punto questo oggetto v che è un oggetto di tipo voto un mio 25 che ho preso è in questo momento contemporaneamente contenuto in due liste diverse è lo stesso oggetto che è contenuto in due liste diverse questo mi va bene che sia lo stesso oggetto per tanto il voto è quello ok però dobbiamo ricordarcelo non sono due oggetti diversi non ho copiato un oggetto voto ho creato un altro oggetto voto il primo è nella prima lista il secondo è nella seconda lista ma è lo stesso oggetto che appartiene ad un liste contemporaneamente come faccio a sapere che è lo stesso oggetto perché non c'è scritto new l'unico modo di creare nuovi oggetti è scrivere new se non sto creando nulla sto semplicemente riusando oggetti che esistono che c'erano già ok questo lo apprezzeremo meglio quando faremo gli altri punti dell'esercizio ok questo funziona non lo so lo proviamo qui torniamo sul programma di test qui di 25 non ne avevamo ma lo possiamo aggiungere aggiungiamolo qua a metà diciamo che ancora c'è e quindi io posso a questo punto creare una lista di voti mettiamo 25 sarà nient'altro che libretto punto lista voti uguali a 25 e potrò questa lista ovviamente devo aggiungere occhio quando aggiungete una classe che il primo che vi suggerisce è java.avt che non è quello che volete java.utile ciò che volete se cliccate sul package sbagliato poi cominciano a saltare fuori errori ovunque quindi leggete sempre prima di cliccare uno degli errori che fate sempre sempre più spesso è cliccare senza leggere ecco questo vi crea disguidi notevoli quindi prima di cliccare un ok imponetevi una pausa di mezzo secondo è giusto quello che sto cliccando perché non sempre quello che lui mi propone come prima scelta è quella giusta vabbè a questo punto system.out punto printline ln di 25 e quindi proviamolo mi stamperà questo qua che è la rappresentazione di una lista vedete che ci sono le parentesi quadre perché qui ho usato un oggetto list da stampare ho stampato direttamente l'oggetto list che quindi mi ha stampato a sua volta la rappresentazione completa dell'oggetto vuoto quindi questo qua è una possibile funzionamento dopodiché mi accorgo che uno ho dovuto definire un tipo lista che prima non avevo prima lavoravo con un tipo libretto che era di alto livello invece adesso mi hai obbligato a scendere di un livello più basso lavorare direttamente con le collection secondo se come l'ho stampato non mi piace devo reimplementarmi io in questo metodo tutta una logica per stampare la lista logica la quale in realtà c'era già dentro la classe libretto per questo che a me piaceva di più ritornare una classe libretto che poi non è molto diversa è questa sicuramente quest'altro metodo dei voti uguali non fa altro che creare un nuovo libretto quindi libretto risultato uguale new libretto creo un nuovo oggetto che questa volta è tipo libretto e poi farò la stessa cosa for voto maiuscolo di in this punto voti e vado a controllare se la stessa cosa get vuoto uguale punteggio allora libretto punto add un libretto sull'attima risultato punto add div in questo caso ho un risultato che è un oggetto libretto l'oggetto libretto ha un metodo add di suo e quindi so che questo voto del mio libretto va aggiunto anche al libretto risultato posso usare tranquillamente il metodo add avrei anche potuto poiché sono nella stessa classe scrivere qualcosa di più brutto risultato punto voti punto add div normalmente la voti è una proprietà privata l'abbiamo dichiarato qua come private voti quindi nessuno mai potrà da un oggetto di tipo libretto come risultato leggere o scrivere o modificare la proprietà voti se io non ci metto un getter o un setter per poterlo fare nessuno ad esclusione della classe libretto quindi la classe libretto può vedere le proprie proprietà private anche di oggetti diversi perché questa classe lavora sull'oggetto dis su questo poi ne ha creato un altro ma è sempre di tipo libretto quindi ha i superpoteri di poter vedere modificare internamente i suoi dati a volte ci potrà servire ma in questo caso c'è già un metodo add che fa quello che deve fare con l'interfaccia pulita di libretto quindi non mi sembra in caso di andare a pacioccare dentro un'altra classe sono sempre io è sempre un oggetto diverso da me in cui vado a modificare i dati però posso farlo mi sembra più semplice il primo e alla fine ovviamente riscatruisco il risultato che è il libretto nuovo questo dal punto di vista del programma principale qui torno sul test libretto quindi la fine differenza tra questi due è semplicemente il fatto che qua il risultato è un array list e qua il risultato è un oggetto libretto poi per il resto sia la lista che il libretto li vado ad alimentare con tutti e soli i voti che hanno il punteggio desiderato ovviamente quindi se torno sul test libretto posso provare libretto 25 libretto punto voti uguali 25 a questo punto posso stampare punto print line il libretto 25 non ci sono sorprese mi stamperà ovviamente la stessa cosa me lo stampa però ad esempio senza le parentesi quadri o le virgole eventuali perché sta usando il metodo di stampa della classe libretto che è un pochino più furbo esteticamente l'abbiamo curato un pochino meglio ovviamente se non voglio ovviamente prendo questa stringa e ci faccio ciò che voglio quindi sembrano equivalenti ma la vera differenza è che questo oggetto di classe libretto a sua volta ha ancora un metodo add quindi se volessi potrei aggiungere altri voti a questo secondo libretto perché è sempre un oggetto dello stesso tipo e quindi continua ad avere tutte le funzionalità di prima e non ho semplicemente restituito un dato grezzo ma ho restituito un oggetto che sa come gestire i propri dati ok questo è il tipo di ragionamenti che ci spingiamo a fare qual è il modo migliore di implementare una cosa voi nel corso di tecnici di programmazione di programmazione oggetti avete imparato tanti modi di fare le cose quindi diamo per scontato che voi sapete cosa è una lista cosa è un generic eccetera eccetera cosa è new ma poi ci chiediamo tutta questa roba qua qual è il modo migliore di metterla insieme per avere un programma che sia più facile da gestire più facile da far crescere per scrivere meno codice e avere più risultati ok questo funziona abbiamo implementato il punto 2 anzi l'abbiamo implementato in due modi diversi e quindi ovviamente mi scatta l'istinto di fare commit soluzione punto 2 mi chiedevate prima qualcuno in un messaggio precedente però non volevo interrompere il filo del discorso come faccio a modificare questi due nomi dovrebbe esserci una menu di configurazione da qualche parte adesso vediamo se lo troviamo sotto team anche io dovrei dove è advanced no è nelle impostazioni del progetto preferences un attimo anche ci arrivo version control eccolo qua git configuration eccoli qua quindi se andate rifaccio il passaggio per modificare questi nomi che comparino qua sotto se lui li prende in configurazione di windows ma se ovviamente volete mettere le vostre le potete modificare ogni volta oppure modificandole per sempre windows preferences e dentro la finestra di preferenze dovete andare in virtual control git configuration dove a questo punto potete modificare per repository per utente o a livello di sistema tutte queste impostazioni di solito quelle dell'utente modificate questo e da quel momento in avanti dovrebbe funzionare ok vi prende questo quando precompila quelle caselle ok ho visto che facevate cose su telegram in parallelo però onestamente non riesco a seguire due chat contemporaneamente quindi le guardo dopo a meno che preferiate invece magari in futuro usare solamente la chat di telegram anche durante le lezioni se se quello che scrivete volete che lo veda io anche in tempo reale purtroppo non riesco mentalmente a seguire tutte le cose contemporaneamente magari parlate tra di voi ma le riguardo con calma se invece preferite per la prossima volta anche perché in telegram magari può mettere l'immagine può mettere una cosa diciamo così un pochino più ricca come fare domande risposta a taggare le persone se volete della prossima volta durante la lezione possiamo decidere di non usare la chat di zoom o la chat di telegram se lo ritenete più utile fatemi sapere come pensate oppure vi potete tenere telegram per conto vostro durante le lezioni lo guardo poi a fine lezione troviamo il meccanismo che ci renda meglio ok quanto abbiamo ancora abbiamo pochi minuti vediamo un po' il punto 3 che in realtà è anche lui molto banale ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso quindi in questo caso io ti do il nome del corso e la classe libretto deve darmi il voto di un esame adesso anche qua di nuovo il testo è ambiguo ma l'edizione che l'ha scritto il voto di un esame cos'è? è il numero intero il 28 oppure l'oggetto vuoto cosa è meglio fare? e allora qui abbiamo ricerca quindi aggiungiamo una classe che possiamo chiamare public ricerca vuoto ricerca corso diciamo così e ovviamente riceverà come oggetto la stringa che contiene il nome del corso e fin qua è facile ma poi cosa deve restituirmi? mi restituisce un intero che è il numerino corrispondente al voto di quel corso oppure mi distribuisce direttamente l'oggetto voto che contiene ovviamente il nome ma anche il voto ma anche la data e poi sarà il chiamante che va a estrarsi il voto se gli serve ok? la domanda retorica sicuramente preferisco la seconda o allo stesso prezzo un'informazione che magari mi può servire a più scopi che non semplicemente un numero grezzo allora in questo caso anche qua avrò come risultato un oggetto di tipo voto che inizialmente diciamo l'imposto null non c'è non l'ho trovato e poi vado a cercare for voto di l'interno dis.voti vado a controllare se questa volta v.get nome è uguale a nome corso uguale uguale nome corso allora in questo caso risultato uguale v e alla fine ritorna risultato poi volendo quando ho trovato risultato uguale v posso anche interrompere il ciclo non mi serve andare avanti quindi molto simile a prima anziché andare a controllare il punteggio vado a controllare il nome del corso anziché restituire tutti quelli che hanno un certo punteggio restituisco l'unico che ha quel nome perché ovviamente non possono avere due esami diversi lo stesso nome del corso salvo il fatto che qui c'è un errore che è questo qua cosa c'è di sbagliato qua? equals ok quindi mentre prima stavamo confrontando dei numeri interi e allora il confronto si fa con l'uguale con l'uguaglianza di valori interi qui stiamo confrontando oggetti sono stringhe poverini ma sono pur sempre oggetti quindi questo test con l'uguaglianza praticamente fallirà sempre perché io posso avere due stringhe identiche ma sono oggetti diversi vanno sempre confrontati con equals ok quindi confronto si fa il nome del corso è uguale alla scusate alla stringa nome corso no il risultato non c'entra niente il confronto di stringhe è sempre con equals ricordiamoci che il confronto con l'uguale è un caso particolare che funziona solamente in alcuni casi particolari perdiamo l'abitudine di usarlo e perdiamo anche l'abitudine di usare compare to so che ve l'hanno insegnato ma io adesso ve lo disinsegno per un motivo molto semplice equals è un metodo universale si può praticamente quasi tutti gli oggetti possono implementare un metodo equals perché richiede solamente di sapere se i due oggetti sono uguali o no true or false il metodo compare to richiede che io sappia dire se gli oggetti sono uguali maggiore o minore giusto? perché devo restituire un valore negativo nullo o positivo a seconda che il primo elemento sia minore precedente uguale o successivo al primo allora esistono dei casi in cui nel caso di string io posso ordinare le string dalla più piccola alla più grande e quindi posso usare un compare to che mi restituirà zero se solo se le due string sono uguali restituirà un numero negativo se la prima stringa viene prima in ordine alfabetico e viceversa se viene dopo ma ad esempio pensate anche sull'oggetto voto se io ho due voti due oggetti voto e mi chiedono quale viene prima e quale viene dopo allora se mi chiedono se sono uguali o diversi lo so vado a vedere se il nome è uguale il voto è uguale il dato è uguale allora è lo stesso voto ma se mi chiedono quale viene prima e quale viene dopo per implementare il compare to ecco lo dico viene prima rispetto a cosa rispetto all'ordine alfabetico del nome rispetto al voto rispetto alla data cioè non esiste un criterio di ordinamento naturale per oggetti complessi se io ho delle coordinate x y in un piano posso definire chi è maggiore chi è minore no ok quindi il metodo compare to non sempre si può definire su un oggetto si può definire su oggetti che in qualche modo siano lineari unidirezionali nei loro valori ma se ho degli oggetti che sono multidimensionali quindi hanno valori diversi avrebbe senso ordinarli in un criterio del primo del secondo del terzo cade il significato del metodo compare to poi lo implementeremo quando faremo gli ordinamenti parliamo di ordinamento naturale però normalmente non posso presupporre che gli oggetti siano ordinabili il metodo equas presuppone che gli oggetti siano confrontabili ti so dire se sono uguali o no il metodo compare to presuppone che gli oggetti siano confrontabili ma anche ordinabili e a noi in questo caso non ce ne frega niente che debbano essere ordinabili perché ci interessa solamente il valore esatto ok quindi abitiamoci a usare equas quando testiamo l'uguaglianza e compare quando vogliamo testare l'ordine prima e dopo perché quello è il suo scopo così come vedrete che nel strutture dati più complicate come l'hash table eccetera il requisito fondamentale è che un oggetto implementi il metodo equals mentre il metodo compare to non interessa a nessuno tranne i metodi di ordinamento alle classiche hanno all'interno un metodo di ordinamento quindi sono due cose diverse non le usiamo in modo totalmente intercambiabile ovviamente c'è una regola che non deve essere violata che se due oggetti sono equals il compare to qualora sia definito deve fare zero e se il compare to fa zero equals deve fare true cioè non devono mentire ovviamente noi due metodi devono essere allineati se ci sono entrambi ma equals è sempre il compare solo talvolta ok l'ultima parola perché poi abbiamo finito il tempo questo metodo è meglio che lo scriva a questo punto l'avrei dovuto scrivere su tutti ma lo facciamo con più calma questo qua ricerca un voto corrispondente del corso cui ha specificato il nome se il corso non esiste restituisce null devo dirlo perché se il corso non esiste cosa devo fare cosa restituisco un corso a caso oppure genoma eccezione oppure restituisco la stringa vuota no in questo caso restituisco null lo vedo perché avevo inizializzato il risultato null e quindi qui sto ritornando al risultato che se non è stato sovrascritto qua sarà ancora null però è importante per chi usa questo metodo sapere che c'è un caso particolare e la classe di test dovrà gestire questo caso particolare non stampare alla cieca questo è il valore risultato ma controllare se non è null allora lo stampa perché altrimenti ti spara nel null pointer exception e va gestita in questo caso quindi adesso aggiungeremo poi le due frasi le due istruzioni nel test libretto anche per poter testare questo metodo così potremo fare anche il commit della fase 3 al momento però ho esaurito il tempo che avevamo a disposizione quindi come vi dico tra qualche minuto faccio il commit anche di questa parte poi con canna la sposterò anche sul TDP nel branch soluzione così ce l'avete visibile e domani in laboratorio andrete avanti partendo dall'abuno facendo il fork e il clone come abbiamo visto e poter cominciare a lavorare sull'abuno anche lì il laboratorio sarà un misto di lavoro sulle stringhe sulle liste e però l'interfaccia JavaFX in cui vengono utilizzate per il momento vi saluto buon laboratorio per domani ricordatevi le squadre che abbiamo definito sono queste questa settimana sono queste dalla settimana prossima alterniamo il martedì col mercoledì così se non mediamente diciamo così vengono tutti penalizzati o o o o meno in parti uguali grazie di tutto e buona giornata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti